Salve amici e amiche di BIMUS, bentrovati, vogliamo dirvi grazie a voi che ci seguite ogni giorno, ormai sono da un paio d'anni che abbiamo rilanciato questo progetto di informazione indipendente, quindi stiamo crescendo assieme, noi siamo sempre al vostro fianco, voi fate altrettanto con noi, vogliamo continuare a realizzare questo progetto di informazione libera, gratuita e indipendente dalla politica, per fare questo vi ho bisogno però ovviamente soprattutto di voi, di voi che avete un'attività commerciale e potete entrare nel fantastico mondo di BIMUS, i nostri dati delle visualizzazioni sono dati pubblici che attraverso Google Analytics noi possiamo mostrarvi e voi potete monitorare quando volete, quest'anno abbiamo ottenuto ben oltre 1.500.000 visualizzazioni grazie a voi, sui nostri canali, sul sito, sulla nostra pagina Facebook e poi ovviamente siamo anche su Twitter, su Instagram e sugli altri canali. quindi potete mettere in evidenza la vostra attività, farvi conoscere su web, arrivare nelle case delle persone ogni giorno grazie a noi mettendo un banner sul nostro sito, mettendo il vostro banner nei nostri video che facciamo sulle inchieste giornalistiche e mettere il vostro banner nelle dirette che realizziamo dallo studio facendo questo voi potete arrivare a migliaia di persone ogni giorno e in più finanziate BIMUS che è un progetto indipendente noi in questo progetto ci vediamo, potete chiamare a questi numeri, chiamate adesso e fissere un appuntamento quindi e anche voi potrete dire di essere partner di BIMUS. Noi ci siamo, ci saremo sempre, vi aspettiamo per questo Natale Buon Natale a tutti, Andrea Veneruso, BIMUS Buon Natale a tutti, Andrea Veneruso.